Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Clash Royale per parlare del nuovo aggiornamento che probabilmente, con tutta probabilità, sarà rilasciato a giugno poi sono tutti i rumors e attualmente non c'è nulla di certo ma andiamo ad analizzare tutti i nuovi sneak peek, che ci sono tutte le nuove novità e la cosa interessante è che, cioè diciamo le leggendarie, vi dico questo poi iniziamo a parlare da capo le leggendarie che vogliono aggiungere, almeno secondo i rumors, erano quelle che io avevo ipotizzato in qualche video fa ma va bene così, adesso andiamo a vedere il tutto, partiamo con un bel replay e andiamo a parlare degli sneak peek iniziamo la prima cosa, quelle più leggere e veloci, che possono andare via bene, poi passiamo a quelle corpose la prima è che aggiungeranno nuove faccine, quindi easy, stealth, altre faccine da utilizzare che alla fine può andare bene, quella per mandare a fanculo l'avversario sarebbe la migliore ma non penso la metteranno mai, in tutti i casi ci saranno nuovi obiettivi per dare un po' più di animazione e poi più, non lo so, un po' più di vigore al gioco mettiamola così, qualcosa in più da completare perché attualmente io li ho finiti tutti e poi magari ci sarà altra gente che non l'ha fatto, tutto il resto, comunque più obiettivi danno anche più bonus, più risorse e più gemme e questo non è male ci sarà una chat globale in cui potremo parlare con tutti i giocatori cioè una chat globale in cui tutti possono parlare con tutti, non so se ci si potrà sfidare sarà accanto alla tv royal, ci sarà un'iconcina per appunto parlare con tutto il resto del mondo è un po' come Clash of Clans, una roba del genere dopodiché verranno introdotti... ecco questa sarà altre due cose abbastanza corpose a parte l'interfaccia del clan, ecco questa è l'ultima e poco rilevante verrà cambiata l'interfaccia all'interno del clan con nuove opzioni ma queste erano le cose meno rilevanti adesso iniziamo con quelle forse un po' più corpose e sostanziali abbiamo la possibilità di vendere carte per gold e questo non è male perché poi io per esempio che ho tante carte che non utilizzo posso vendere le mie carte per comprare gemme e quindi altri bauli ah esatto aspetta fermate, posso vendere le carte per fare upgrade attualmente l'idea è vendo carte e faccio upgrade che ci sta, per carità, ci può stare bisogna sempre non farsi prendere la mano perché poi con i vari aggiornamenti potrebbero rendere carte più forti guarda il gigante royal che non utilizzava nessuno adesso è diventata una carta davvero meravigliosa che usano tantissimi e quindi bisogna stare attenti con quest'idea di vendere carte bisogna sempre non lasciare troppe carte indietro per esempio se hai un deck di tutte carte livello 8 magari qualcuna di livello 6 stonerebbe tanto quindi portate tutte le carte allo stesso livello ma va bene così comunque l'idea di vendere carte per gold è fondamentale cioè a me piace un sacco ed è una bella idea la reputo una grandissima trovata perfetto, mi piace detto questo un'altra trovata grandiosa proprio che non so quanto saranno così le cifre altissime per carità perché non è che la supercell si fa così ti dà la possibilità di prendere gemme gratis ma c'è un modo in verità, c'è un modo perché ti puoi comprare con il gold le gemme esatto, puoi scambiare gold con gemme il che è meraviglioso sicuramente sarà un tasso altissimo per carità però è già qualcosa per carità su clash of clans non è possibile fare queste cose su clash royale sì e tanto di guadagnato secondo me è davvero una bella trovata per carità potrebbe davvero essere interessante e va bene detto questo andiamo a parlare adesso della roba proprio più cioè perché ho fatto sto video io perché aspettavate tutti sto video perché adesso sono usciti delle nuove leggendarie sei carte totali sei carte in totale tra cui abbiamo ve le tiro giù così il bocciatore carta che non sarà leggendaria ma che io avevo se vi ricordate se andate a vedere il mio primo video che ho fatto su aggiornamento leggendarie era tipo un aggiornamento un video che avevo fatto io ho fatto una proposta ne ho fatti diversi di questi video se non l'avete visti andateli a vedere li trovate sotto in descrizione e ci sono tanti 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 cioè avevo fatto parecchi video con tante proposte idee idee di aggiornamento che avevo così proposto tra poi anche voi eravate stati gli artefici perché sotto nei commenti mi avete scritto tante cose e io le avevo proposte il primo video che faccio per le leggendarie parlo di gigante sì di chi re barbaro regina degli arcieri e bocciatore tanto bene e ecco il gran sorvegliante l'avevo messa in forza e poi l'avevo fatta nel video successivo quella del gran sorvegliante me ne escono con lo sneak peek sneak peek in cui indovinate cosa giungono re barbaro regina degli arcieri e giganti e gran sorvegliante grande 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 allora poi ci avevo riflettuto sulla principessa avevo detto che cioè sulla regina degli arcieri avevo detto beh no vabbè ma c'è la principessa perché dovrebbero aggiungere una regina degli arcieri e invece no sarà diversa probabilmente queste tankeranno le strutture e non le singole carte il che non è male molto molto interessante avere leggendari che ti vanno a tankare strutture perché attualmente non ce ne sono e questo è tanta roba davvero davvero parecchia roba mi piace mi piace è una bella idea interessante e tanta 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 roba non mi dispiacerebbe avere delle leggendari così forti ma il bello è che è uscito tipo il mio video è uscito quanto? un paio di settimane una settimana e mezza fa due quasi e loro se ne escono oggi con il sneak peek non lo so vabbè una casualità totale però è figo però mi piace è interessante interessante aggiungeranno anche il bocciatore cosa che io avevo scritto non ovviamente a livello di leggendaria non sarà una carta leggendaria sarà una carta non so come una rara o epica però è figa è figa è figa mi piace non è male come idea altra cosa fondamentale che andranno ad aggiungere probabilmente ma non è tutto scritto segnato non come leggendaria il drago il dragone esatto il drago di clash of clans hanno portato tante novità da clash of clans clash royale clash royale è un gioco totalmente ambientato su clash of clans quindi continueranno ad implementare nuove carte e faranno anche lo stesso come è già stato come si faranno anche la cosa inversa come è già successo farà implementeranno carte di clash royale su clash of clans come sotto forma di truppe è successo con i baby dragon con la pozione di duplicazione ovvero lo specchio e con anche poi le cose come si chiamano eh si esatto i cosi i minatori tanta roba minatore tantissima roba esatto una roba del genere tutto qua va bene detto questo andiamo forse a parlare della novità che più aspettavate perché davvero è una figata stratosferica enorme infinita tantissima roba 1-1 punto esclamativo che cosa è? un nuovo baule un nuovo cazzo di baule ma vi rendete conto un nuovo baule che roba fighissima potrebbe essere allora chiameranno secondo vari rumors il baule divino o almeno non so bene come sia come lo chiameranno come decideranno di chiamarlo e tutto il resto però si è baule divino questa è la sua per ora nome non sanno bene come introdurlo nel senso se metterlo al pari della no al pari assolutamente no però tra la cosa la magical chest e la super magical o addirittura sopra la super magical cioè sopra la super magical vuol dire che è un baule che ti costa un milione di euro cioè è una cosa infinita ma che è fighissimo noi faremo appena esce spacchettamento ci apriamo subito il baule divino perché mi casa un sacco l'idea e magari sarebbe figo fare un baule divino con la percentuale tipo il 70% e trovarci una cazzo di leggendaria perché poi lì viene giù il mondo tanta roba tanta roba davvero ti fai gli spacchettamenti quelli seri parecchi mi avete allora sì ecco qua vabbè queste le soglie varie e tutto il resto hanno alzato no niente scherzo beh tanta roba è tanta tanta roba secondo me questo aggiornamento davvero potrebbe venire bene una nota negativa purtroppo è che secondo qualche rumor se nerferanno log rider cosa brutta terribile però signori miei questo è quanto comunque spero che questi aggiornamenti vi piacciano a me personalmente l'idea di comprare gemme è la cosa che più mi fa impazzire è davvero una figata la possibilità di comprare gemme per gold cioè vi immaginate è una cosa che non solitamente non c'è nessun gioco ti dà questa possibilità e davvero significa nerdare malissimo e giocare tanto 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 a clash royale e sarà sì sicuramente un bel passatempo un motivo in più per fare battaglie perché con le battaglie prendi gold e tutto il resto vabbè poi è un ciclo che continua e insomma va bene ognuno adotterà le strategie che preferisce però in linea di massima è qualcosa che potrebbe essere davvero interessante e figo comunque ragazzoli penso che per questo video possa essere tutto vi terrò ovviamente aggiornati scusate su nuovi sneak peek su tutto quello che uscirà su clash royale io provvederò a postarvelo e a farvelo vedere ovviamente siete invitati a lasciare un commento sulle vostre espressioni idee tutto quello sensazioni tutto quello che avete in mente su questo nuovo aggiornamento di clash royale se vi piace l'idea se vi sta piacendo quello che che implementeranno che hanno implementato e tutto il resto secondo me è tanta roba l'idea di fare degli aggiornamenti continui ovviamente è un gioco che vogliono portare assolutamente avanti e quindi continueranno e continueranno ad aggiungere carte perché le carte sono la cosa che tiene forse più vivo questo gioco la possibilità di collezionare nuove carte attualmente ce ne sono 54 con l'aggiunta di queste 6 nuove carte leggendarie e non più o meno le hanno svelate tutte le leggendarie per le carte normali arriviamo a 60 in tutti i casi comunque vi dicevo che ricapitolando sono re barbaro regina degli arcieri gran sorvegliante probabilmente bocciatore che sarà rara se introdurranno il drago probabilmente sarà epico con tutta la probabilità epica purtroppo non ce la fanno leggendaria io non so perché il drago secondo me come l'avevamo immaginato noi è qualcosa che spacca veramente malissimo però va bene insomma questo è quanto e questa è l'idea che mi son fatto in merito a tutto quello all'aggiornamento e tutto il resto poi andremo a vedere magari nei giorni successivi ci diranno qualcosa in tutti i casi ragazzi penso che per questo video possa essere tutto vi ringrazio tantissimo per la visione vi ricordo se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se vi è già fatto condividete il video su facebook e fammi lasciare le persone mi raccomando passate tutti i link in descrizione facebook e instagram e noi ci vediamo come al solito un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti